Si chiama Free House, letteralmente Casa Libera, l'operazione della Guardia di Finanza di Rimini che ha scovato alcuni furbetti delle case popolari ottenute grazie a false dichiarazioni attinenti i propri valori immobiliari. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni arrivate dal Comune di Rimini nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto nel 2006. Il lavoro dei finanzieri ha permesso di accertare l'esistenza di consistenti patrimoni immobiliari in capo ad 11 soggetti assegnatari di alloggio popolare, a fronte però di esigui patrimoni immobiliari emessi nelle dichiarazioni ISEE presentate dagli stessi tra il 2012 e il 2016. Per 5 soggetti beneficiari di alloggi acera è scattata così la denuncia per indebita percezione di erogazione a danno del bilancio pubblico, per gli altri 6 invece sono scattati verbali per violazione di natura amministrativa per un totale di quasi 57.000 euro. Da sottolineare che gli 11 assegnatari finite il mirino della finanza complessivamente sono risultati titolari di patrimoni per quasi 1.800.000 euro mentre hanno attestato in totale solo quasi 15.000 euro. L'operazione delle Fiamme Gialle ha fatto emergere che tra il 2013 e il 2017 a fronte di 173.652 euro di canoni di locazioni che dovevano effettivamente essere corrisposti all'ACERI beneficiari indagati hanno corrisposto soltanto 100.839 euro. Il mancato introito ha raggiunto i 73.000 euro. Per 5 denunciati è scattato poi il provvedimento di sequestro preventivo dei beni emesso dal Tribunale per un valore pari all'illecito provento di reato di 39.312 euro mentre sono stati inviati a segnalazioni all'ACERI al Comune per il successivo recupero delle somme determinate dal ricalcolo del canone di locazione. Grazie a tutti.